Il giorno che il Signore ha preparato è bello pensarsi come poter dare sapore attorno a sé quindi dare colore, dare sapore e nello stesso tempo dare luce Oggi il Signore affida a voi l'amore, serenità, pace ma essere luce del mondo Oggi il Signore affida a voi l'amore, essere luce del mondo È stato molto bello, l'ho conosciuta, ho sentito subito le campanelline nella testa e da lì ho capito che Irene era la persona giusta, adatta per me ed è scoppiato subito l'amore, la scintilla che abbiamo sentito entrambi nel cuore e da lì ho capito subito 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 sire scritto il Signore Il Signore è 1 S passed Grazie a tutti